Cosa succede al Cuomo? E il giudice? Il giudice? Ho detto un commento e non ho tenuto l'invio. Avete ottenuto un invio? Abbiamo ottenuto l'invio. Fino a quando? Abbiamo ottenuto l'invio, adesso io. Comunicheremo oggi cosa avevamo deciso e faremo tutte le nostre comunicazioni. Comunque siamo. Oggi è arrivata la decisione della Coppia, quella di Coppizocco, di scrivere regolarmente. Siamo iscritti al campionato. Lei esce da questa audienza come? Come sono entrato? Tranquillo. Più ottimista o più... Sì, ottimista. Certo. La situazione è sempre la stessa. Sono persone seri. Dobbiamo salvare il calciocomo. Andiamo avanti. Vi aiuta questo rinvio? Sì, penso di sì. E che fai Olindo che sca...